La settimana prossima saranno assegnati gli Oscar e per quanto riguarda la categoria migliore attore protagonista, la battaglia, salvo sorprese, sembra essere a due. Da un lato Michael Keaton in Burnham, da un altro lato Eddie Redmayne per la teoria del tutto. Si tratta di due buone interpretazioni, anzi eccellenti, ma che sono segnate da una caratteristica tipicamente hollywoodiana. Hollywood e in particolare gli Oscar amano premiare le persone che risorgono, come Michael Keaton, ma soprattutto attori o attrici che interpretano persone disabili, disegnati da un handicap o segnati da una malattia, oppure che si imbruttiscono terribilmente per interpretare un ruolo che appunto li porterà agli Oscar. Non è la prima volta che succede e questo purtroppo nega anche la qualità delle interpretazioni, che ripeto molto spesso sono di eccellenza. Nel passato ci sono stati dei casi clamorosi, ricorderete tutti i migliori anni della nostra vita e il bellissimo film di William Wyler, dove il protagonista Harold Russell vinse l'Oscar interpretando praticamente se stesso, un uomo che ritornava dal fronte senza le mani. Poi ci sono stati i casi di Linda Hunt, l'attrice affetta da nanismo, che interpretò un ruolo maschile in un anno vissuto pericolosamente, o di Marlee Motlin, l'attrice sordomuta, che interpretò un ruolo appunto di sordomuta in Figli di un Dio minore. Tutte interpretazioni di eccellenza, che però vedono questa premiazione nascere soprattutto dalla compassione, dal riconoscimento di una prova che non è solo recitativa, ma uno sforzo riguardo al loro disagio, al loro bandica. Poi c'è un'altra categoria, quella degli attori o delle attrici che si imbruttiscono terribilmente per dimostrare di non essere solo belle, ma anche brave. Pensato a Nicole Kidman, certamente brava a interpretare Virginia Woolf in The Hours, ma dotata di un naso posticcio veramente imbarazzante. Oppure Charlize Theron in Monster, che ingrassa, si imbruttisce e che diventa un'assassina, bravissima, ma è stata premiata solo per la sua bravura. O il caso di Halle Berry, sempre splendida, ma miserabile, poverissima e disperata in Monster's Ball. C'è un'altra caratteristica abbastanza interessante. Molto spesso gli Oscar premia per quanto riguarda gli uomini attori che interpretano personaggi molto autorevoli, autoritari o addirittura dei militari. Pensate Patton, generale d'acciaio, con il grande George C. Scott. Viceversa c'è una costante che riguarda le interpretazioni femminili. Molto spesso i ruoli di donne sono delle prostitute. Nel 1995 ben tre delle cinque attrici candidate interpretavano delle prostitute. Si tratta di Elizabeth Shue, Sharon Stone e Mira Sorvino, che poi vinse per Dea dell'Amore. Insomma, molto spesso l'Oscar vede prevalere il sentimentalismo e la correttezza politica sulla reale qualità. E questo è un peccato, perché alcune interpretazioni sono veramente di eccellenza, vogliamo ripeterlo. Pensate a Dustin Hoffman in Rain Man. Pensate a Daniel Day-Lewis nel mio piede sinistro. Poi la sua carriera ha dimostrato veramente la grandezza interpretativa, tant'è vero che sia Hoffman che Daniel Day-Lewis hanno vinto degli altri Oscar. Tutto questo, però, lascia un alone di dubbio sulla qualità di un premio, perché se prevale il sentimentalismo, se prevale il riconoscimento di un disagio, di un handicap o l'interpretazione che va in quella direzione, la qualità, la credibilità, l'autorevolezza del premio scompare. Un saluto da Central Park West. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS